Ciao, siamo Alice e Giada. Quest'estate, grazie a un progetto scolastico, siamo partite da Roma a Doblino con un gruppo di altre 13 persone. Abbiamo avuto la possibilità di fare un tirocinio all'Aerimus Call of English tra 18 giugno e 6 luglio, affiancato da Mauro, dal nostro manager. In Epson noi abbiamo il compito di aiutare gli studenti e quello di scrivere email, e quello di stampare e consegnare i certificati di fine corso. E siccome la scuola offre anche la possibilità di svolgere esami di lingue ufficiali, consegnavamo anche certificati del tipo Cambridge, IELTS e altri. Oltre a questo, passavamo per le classi a prendere le presenze degli studenti e gli avvisavamo anche dei corsi numeridiani organizzati anch'essi da noi e da Noel. Nei momenti di pausa andavamo nella tutta detta a su dentro Roma a rilassarci e a socializzare con gli altri studenti. Svetlana, la tutora, ha sempre stato qui per noi e Mauro, ci ha avuto questo avventure. Yes, without this experience, I would like to go there again. Noel. 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 Noel.